e in questa giornata è giusto e necessario risvegliare in tutti noi la bellezza dell'incredibile dono che Gesù ci ha fatto. Bentrovato padre Ernesto, buona Pasqua della settimana. Oggi direi davvero buone Eucaristie perché siamo davvero in quella che è per me quella processione che è l'ideale, la bellezza di un popolo che cammina grazie a questo pane dell'Eucaristia. Oggi ricordiamolo, ricordiamo il Santissimo Corpo e il Sangue di Gesù Cristo che è la sua parola contenuta nelle scritture che è il suo corpo e il suo sangue contenuto nel sacramento dell'altare. Quindi non dimentichiamo le due menze oggi Anna Maria. Ecco perché non è un dono qualsiasi, ma un dono sublime, un dono divino. L'Eucaristia è veramente il cuore della Chiesa. La Sacro Santum Concilio numero 8 dice che tra i tanti segni della presenza di Cristo, l'Eucaristia della parola del corpo e sangue di Cristo è veramente il centro. E noi oggi ci troviamo nel capitolo 9, quasi alla fine di quel viaggio che Gesù sta facendo in Galilea. Poi dal versetto 51 inizia il grande viaggio verso Gerusalemme. Che cosa ha fatto Gesù in questa prima parte del ministero? Dal capitolo 4, cioè dal discorso nella sinagoga di Nazareth, fino a questi versetti in cui instaura il discorso del pane e del vino. E gli ha insegnato, ha operato segni di salvezza, ha operato segni di misericordia. A questo punto convoca i codici e dà loro potenza e autorità sui demoni e li invia a proclamare il regno di Dio. E li manda senza preoccuparsi di nulla. Gesù dice loro che provvedrà il Signore per tutto. Luca è veramente molto radicale. Niente da portare perché l'operaio nella vigna del Signore dipende dal Signore. Poi dopo aver accennato al martirio di Giovanni Battista, Luca narra questa moltiplicazione dei pani e dei pesci, che ha ben sei versioni. Noi possiamo leggere questo testo in due racconti di Matteo, al capitolo 14 e 15, in due racconti di Marco, al capitolo 6 e al capitolo 8, e poi la grande pagina del capitolo 6 di Giovanni. Luca riporta il primo racconto contenuto sia in Matteo 14 che in Marco 6, che è già conosciuto nell'Antico Testamento, la famosa manna nel deserto, contenuta nel capitolo 16 del libro dell'Esodo, e poi i miracoli, chiamiamoli eucaristici, del profeta Elie e del profeta Eliseo, suo discepolo, e siamo nel primo re al capitolo 17 e nel secondo libro di re al capitolo 4. Sono due eventi che hanno profeticamente anticipato l'Eucaristia. Potremmo dire che questi episodi dell'Esodo e del primo e secondo libro di re sono quasi la premessa di questo grande mistero dell'Eucaristia. Gli apostoli sono appena tornati dalla missione e tutti contenti stanno raccontando i grandi prodigi che con i loro occhi hanno visto. Hanno potuto vivere non solo la fatica dell'insegnamento e quindi della predicazione, ma hanno sperimentato con Bano la potenza della parola. Allora a questo punto Gesù li prende e li porta in disparte nella città di Bethsaida. Bethsaida è la casa della pesca, questo bellissimo nome, questa piccola cittadina che è la patria di Pietro, di Andrea, suo fratello, e anche dell'apostolo Filippo. La decisione di Gesù però trova un ostacolo perché le folle capiscono cosa sta facendo Gesù e lo seguono. Allora Gesù se ne prende cura, le accoglie, parla loro del regno di Dio, sana pure gli ammalati. Ecco l'Eucaristia della parola, Gesù dona continuamente la parola, insegnava, insegnava. Quante volte nei Vangeli troviamo questa bellissima espressione? Gesù si prende cura, lui è il vero samaritano, per cui questi gesti per un verso sono gesti di una grande tenerezza, di una grande comprensione e gli apostoli, pur comprendendo questi bisogni, credono sia opportuno rimandarli in modo che possono andare nei villaggi, nei campi vicini per trovare cibo e alloggio. In un certo senso distinguono tra l'insegnamento e il rifocillare questa persona, ma Gesù è venuto per saziare la fame di queste persone. Per cui vengono presi un po' alla sprovvista quando Gesù, usando un'espressione un po' enigmatica, nel senso greco è molto bella, date loro dote iumò, date loro voi stessi iumeis fagein, date loro voi stessi da mangiare. Una frase che può significare in modo semplice, provvedete, è la cosa più semplice, ma c'è sotto anche un senso recondito, nascosto. Siate voi cibo, come Gesù è cibo per noi, noi come Chiesa dobbiamo essere cibo per gli altri. Ai discepoli questo appare un po' impossibile, la gente è numerosissima, solo gli uomini sono 5.000, Luca annota senza contare le donne e i bambini, anche Matteo e Marco hanno questa affermazione. Gesù con questa frase li mette dunque davanti a questo duplice senso. Voi siete responsabili, dovrete prendervi cura. È bellissimo questo verbo che poi sarà usato non solo da Luca nel Samaritano, il verbo epimeleo, ma si usa anche in Paolo, prima Timoteo 3.5, il vescovo si prende cura della Chiesa di Dio, provvedere agli altri, prendersi cura, siate voi il cibo per loro, quindi non solo provvedete, ma siete voi il cibo per loro. Cristo non vuole solo sfamare quella gente, sta facendo, sta compiendo un gesto rivelativo, che è poi la chiave di lettura dell'Eucaristia, cioè ognuno è chiamato a preoccuparsi del fratello. Non dobbiamo fare come Caino, che non si è mai preoccupato di Abel, anzi lo ha ucciso. Ogni fratello si preoccupi del fratello, mette a disposizione il poco che ha. Ecco perché quei due numeri che vengono segnalati ci sono solo cinque pani e due pesci, e che cosa sono? Per cinquemila persone, più le donne e più i bambini, ma cinque più due facette e nella Bibbia indica la pienezza. Che vuole dirci qui l'Evangelista? Nelle mani di Dio il poco dell'uomo diventa abbondanza per ognuno e per tutti. E mentre i discepoli hanno suggerito con una logica tipicamente umana di andare a comprare altrove, Gesù ci chiede di condividere. L'uomo usa il verbo comprare, Gesù ci sottolinea il verbo condividere. Ecco, la moltiplicazione dei pani, che è poi la profezia dell'ultima cena, della cena di Emmaus, sono quei pilastri che manifestano qual è la logica di tutta l'esistenza di Gesù. Che cos'è l'Eucaristia? È la vita stessa di Gesù donata per ognuno di noi. È qui che i discepoli possono continuare a riconoscere il loro Signore, a incontrarlo. L'Eucaristia che noi celebriamo ogni Pasqua della settimana è il momento in cui entriamo sempre più in relazione con il Risorto, grazie allo Spirito. E l'abbondanza che viene registrata alla fine dell'episodio, dodici ceste di avanzi, e cioè una per ogni apostolo, è un segno. Segno del nutrimento per coloro che si raduneranno per mezzo della loro missione. Quasi a dire, ogni comunità apostolica avrà sempre l'Eucaristia. È un testo meraviglioso che poi noi abbiamo meditato nel Giorno delle Palme, quando leggendo la Passione quest'anno secondo Luca, abbiamo notato che quando poi Gesù istituisce l'Eucaristia lungo la Passione in Luca, non mangia e non bere. Nessuno lo nota questo particolare, non mangerò, non berrò fino a quando verrà il regno di Dio. Ma quando arriva il regno di Dio, secondo il Vangelo di Luca? Arriva con la Pasqua. Ecco perché Gesù, una volta che è risorto e appare ai discepoli, la prima cosa che fa, dice loro, avete qualcosa da mangiare? Per indicare che lui è davvero, è colui che ha provveduto, ora può mangiare perché non è un fantasma. Lui è il risorto presente nella forza dello Spirito nella nostra comunità. Allora oggi io vorrei invitare tutte le nostre amiche e i nostri amici a rivalorizzare sempre di più la partecipazione all'Eucaristia, che è anche un momento di comprensione della nostra vita, perché la parola ci aiuta a capire la storia che viviamo e il corpo e il sangue di Cristo ci saziano, il pane del cammino fino a quando potremo vederlo faccia a faccia. L'Eucaristia è un mistero meraviglioso, noi siamo davvero partecipi di questo dono che Gesù ci fa e uscendo dalle nostre chiese dobbiamo diventare a nostra volta pane per il cammino dei fratelli e delle sorelle che incontriamo. E allora la condivisione e allora il cammino insieme, allora la condivisione delle ricchezze, la condivisione della vita. Quello che poi Luca ci ricorderà in quel bel sommario degli atti degli apostoli a capitolo 2 nei versetti 42-47, dobbiamo essere solleciti all'insegnamento degli apostoli, nel culto, nella liturgia e soprattutto imparare a condividere una vita. Se davvero la Pasqua è entrata nella nostra vita, lo misuriamo dalla condivisione che facciamo con chiunque incontriamo. Bello questo perché ci ricorda che dobbiamo partire da una realtà che è vita quotidiana, ossia la necessità del pane come nutrimento proprio per questa vita terrena. Certamente e quando noi non mettiamo in comune, perché vedi gli amici mettono in comune e la comunione, io dico sempre che non comincia dal cuore, comincia dalla tasca, chi ama mette in comune quello che è e quello che ha. Ma noi cristiani non lo facciamo come nella filosofia greca o nel mondo orientale, lo facciamo perché è la resurrezione. Se è entrata davvero nella nostra vita, quella Pasqua ci spinge. Come è stato per Maria, c'è Anastasia, è Maria, risorta Maria e si mette in viaggio. Dopo aver ricevuto quella parola, scatta il servizio. È quello che deve fare la Chiesa, accogliere la parola e questa parola, che è parola pasquale, ci mette in movimento verso gli altri. È questa l'eugurazione, Eucaristia, da portare fino in fondo. Lo diceva il grande San Giovanni Paolo II, nel giorno del Signore non basta solo vivere il culto, dobbiamo visitare gli ammalati, condividere con i poveri e davvero imparare a stare insieme e a condividere una vita. Vita e culto insieme. Condividere ed essere in comunione con gli altri, proprio riprendiamo anche la relazione di domenica scorsa. Padre Ernesto, che dirti se non grazie di cuore per averci fatto compagnia in questo anno televisivo, grazie alla tua parola, per noi nutrimento del giorno del Signore. Io vorrei ringraziare il Signore perché la parola, come dice Paolo negli atti al capitolo 20, porta a noi. Solo dopo noi possiamo portare la parola. Ringrazio te, ringrazio Vito e gli altri registi. Ringrazio tutto lo staff di Teleradio Padre Pio che ci concede questo piccolo spazio, dove questo piccolo però nelle mani dello Spirito diventa grande, perché basta una sola di queste parole che Dio ci dona per cambiare la nostra vita. Mi raccomando, quest'estate non abbandoniamo mai il Vangelo, come dice anche il nostro Papa Francesco. E arrivederci a ottobre. Una preghiera per me e per la missione che Dio mi continua da affidare. Preghiera assicurata sicuramente anche da parte dei nostri telespettatori, fedelissimi di conversazioni bibliche, coloro che ti vogliono bene e che ti seguono ogni settimana. Sei il nostro motivatore insieme allo Spirito Santo. Grazie Padre Ernesto. Grazie a voi, che il signor e davvero si benignica. Salome. Salome.